La ZTL partirà a prescindere ma l'ampliamento del perimetro con la chiusura anche di via Trinità avverrà solo quando sarà pronto il tunnel. Il sindaco festa fa chiarezza sulla pedonalizzazione del centro storico di Avellino dopo che il vice sindaco Laura Nargi aveva annunciato lo slittamento di una settimana della chiusura alle auto, ora in programma l'8 giugno. Il progetto più ambizioso che abbiamo presentato anche in conferenza stampa col vice sindaco e che comprende un'area più ampia del centro storico potrà essere attuato con l'apertura del tunnel perché il collegamento nord-sud ci potrà consentire ovviamente di ampliare il perimetro. Stiamo completando tutte le incompiute dalle più piccole alle più grandi per le quali abbiamo trovato una serie di difficoltà amministrative e anche una serie di mancanze progettuali, aggiunge Festa. Anche per il tunnel in questi ultimi mesi abbiamo dovuto correggere un po' di imperfezioni e trovare soluzioni anche a qualche mancanza di previsione che c'era. Ora questa esigenza della cabina di trasformazione dell'Enel penso che sarà l'ultimo passo finalmente, l'ultimo miglio. Il tunnel sarà fondamentale per far defluire il traffico dalla parte alta alla parte bassa della città con il cuore antico del capoluogo off-limits. Non possiamo ovviamente immaginare che la gente compia percorsi tortuosi per spostarsi da San Tommaso a Piazza Kennedy.